Un contributo fondamentale perché i talenti amano e gli studenti amano studiare e vivere in comunità di persone simili da un lato e dinamiche dall'altro. Mantua nella sua dimensione è assolutamente a portata di mano, nella sua dimensione di cittadina non grande, dove la qualità della vita è molto significativa e dove il tema della cultura è perno centrale della vita cittadina, perché la storia, dice questo, rappresenta di fatto una delle location ideali per studiare, per interagire e per crescere insieme ad altri studenti. Ed è anche per questo motivo che il Politecnico di Milano ha fatto una scelta così importante di insediare un proprio campus qui amato. Il metaverso, il cosiddetto metaverso, in qualche modo è esattamente quello che è stato appena detto, cioè un'architettura di contenuti in grado di semplificare i processi di apprendimento agli individui. In questo senso individui che possono essere studenti, possono essere professionisti che devono, medici che devono imparare a come operare, possono essere turisti che vogliono vivere in anticipo un'esperienza di anticipazione, possono essere consumatori che vogliono, come dire, comprendere meglio un determinato prodotto. Ecco, proprio per queste caratteristiche di immersività, di spazialità, di possibilità di garantire un senso di presenza, noi riteniamo che il cosiddetto metaverso rappresenterà una chiave evolutiva nella società moderna e l'ambito dell'educazione è certamente uno degli ambiti privilegiati. Mi spiego. L'accesso a un libro è fondamentale e continuerà a rimanere fondamentale perché ci permette di andare in profondità in determinati contenuti. Tuttavia è un accesso attraverso un oggetto che è prevalentemente testuale, con immagini statiche. Se accanto al libro, che continuerà a rimanere come forma di apprendimento che aiuta ad andare in profondità, pensiamo a contenuti metaversali, quindi ad ambienti immersivi, è chiaro che il lettore ha la possibilità di immergersi in un contenuto storico, di viverlo e, perché no, di interagire con persone che si comportano, parlano come i personaggi dell'epoca. È evidente che è una forma di apprendimento, certamente non sostitutiva, ma è una forma di apprendimento che semplifica la vita allo studente. È in questo senso che noi riteniamo che i contenuti immersivi rappresentino certamente una modalità che qualificherà i futuri percorsi formativi del sistema educativo ai differenti livelli. Il mondo real estate, come tanti altri mondi, sarà significativamente impattato dalla disponibilità di contenuti immersivi e, come ho evidenziato, sarà impattato secondo differenti dimensioni. La prima dimensione è tutto quello che avviene in fase di progettazione e, come dire, nel preacquisto, a seconda che si voglia vedere la logica dell'architetto e la logica dell'acquirente. In questo senso, architetto, progettista e individuo acquirente possono co-creare l'oggetto. Come? Dandolo al progettista dalla possibilità di muoversi virtualmente in uno spazio immersivo che è lo spazio della casa, dell'appartamento e quant'altro, che è oggetto dell'interazione. E quindi questa è una prima modalità, che è una modalità che aiuta il progettista, aiuta l'acquirente a scegliere meglio. Nel contempo è evidente che accanto a questo tipo di possibilità, è una possibilità che poi può dar luogo, può essere utile anche in fase di utilizzo, perché un modello, che è il modello digitale di un edificio, può essere poi a supporto di tutta una serie di fasi, che sono fasi della manutenzione e dell'evoluzione di quello che è l'oggetto immobile medesco. Quindi decisamente avremo a che fare, anche nel mondo dell'architettura, con un impatto che noi riteniamo essere significativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.